Tornava ad affidarsi al proprio fortino il Villa Verucchio, lì dove i Rosa Nero sin ad ora avevano costruito le proprie fortune. La squadra di Andrea Burlaschi era infatti reduce dalla sconfitta rimediata sul campo del Borgo Marina che aveva accorciato le distanze in classifica e ora sperava appunto di sfruttare il fattore Ponte Verucchio per fare bottino pieno contro la Virtus Olimpia e respingere così gli assalti degli inseguitori alla zona playoff. E come vediamo il fattore funziona alla perfezione subito il vantaggio immediato con Pakai già al quattordicesimo minuto sugli sviluppi di un'azione da corner e poi ancora al ventesimo altro corner colpo di testa sul fondo Villa Verucchio vicino al bis per quanto riguarda questo match come detto eravamo al ventesimo spostiamoci con le immagini al venticinquesimo minuto con il pallone recuperato solo per un attimo però dalla Virtus Olimpia e alla fine tutto risolto per il Villa Verucchio che si ripropone in attacco con Del Prete sul fondo al venteseiesimo minuto di gioco. Con le immagini ci spostiamo in chiusura della prima frazione con l'apertura sulla sinistra a beneficio del numero 10 del Prete che mette al centro non ci arriva nessuno non ci arriva soprattutto Moroni che aveva iniziato l'azione poi non finalizzata. Sempre i due a rendersi pericolosi altra conclusione alta per quanto riguarda il Villa Verucchio palla sul fondo ma con le immagini siamo nel corso della ripresa con la palla scodellata facile però sulla punizione di Matteo Ricci l'intervento di Sebastiani con le immagini ora al 69esimo ancora in attacco con l'azione sulla sinistra cercata in questo caso da parte di Lorenzo Ricci tutto facile per il Villa Verucchio che sta amministrando ancora il gol trovato in apertura di match e evitando soprattutto i rischi. Con ora i nostri highlights siamo all'89esimo minuto con la rovesciata facilmente preda della portiere ospite finisce così 1 a 0 tra Villa Verucchio e Virtus Olimpia.